Il vulcano Marsili. Nelle profondità del Martirreno meridionale giace il più grande vulcano sottomarino europeo. Si trova a circa 140 km a nord della Sicilia ed a circa 150 km ad ovest della Calabria ed è il più esteso vulcano d'Europa. Scoperto nei primi decenni del Novecento deve il nome allo scienziato italiano Luigi Ferdinando Marsili. Dal fondale si alza per 3.000 metri e la vetta del suo cratere è a 450 metri dalla superficie del mare. La sua struttura è imponente con i suoi 70 km di lunghezza e 30 km di larghezza pari a 2.100 km quadrati di superficie. Un gigante assopito che nasconde ancora molti segreti ed ha l'attenzione continua dei nostri vulcanologi per la sua potenziale pericolosità essendo di fatto un vulcano attivo come il vicino Stromboli. Si stima che l'età di inizio dell'attività vulcanica del Marsili sia inferiore a 200.000 anni.